Buonasera, buonasera. Buonasera, grazie, sono orgogliosa della mia nuova divisa, sono onorata di essere qui con voi, di essere appunto dei Carabinieri, di un'eccellenza, di un vanto per le forze armali, di un gioiello di tecnologia, di innovazione, di modernità, però io penso anche che i mezzi militari, la tecnologia, l'innovazione, siano strumenti. Il fine rimane la difesa dell'interesse nazionale italiana, il fine rimane la nostra credibilità nel mondo e quindi camminiamo sulle vostre gambe. Prima che su qualsiasi strumento che la nostra intelligenza può immaginare, le nostre mani possono costruire, c'è la vostra professionalità, c'è la vostra motivazione, ci sono i vostri sacrifici. Voi avete scelto di fare un lavoro che vi comporta molti sacrifici, perché non è un lavoro. Quei sacrifici si fanno solamente quando c'è una motivazione sufficiente a rinunciare a tanto, a volte a tutto. Siete molto meno liberi della gestione delle vostre esistenze di quanto siano moltissimi altri. Eppure siete più liberi di tutti gli altri. Dirò a voi quello che ho detto anche in Iraq quando sono andato a trovare il nostro contingente militare. Gustav Tipoli, il filosofo Gustav Tipoli dice l'uomo non è libero nella misura in cui dipende da ciò che ama, ed è schiavo nella misura in cui dipende da ciò che non può amare. Voi dipendete da quello che amare. Per questo, nonostante, diciamo, i tanti sacrifici che fate, voi dimostrate cosa sia la libertà e voi rendete la vostra emozione più libera. Allora provate e te le dirvi di grazie per chi è consapevole delle scelte che avete fatto e delle ragioni per le quali avete fatto quelle scelte. Noi le chiamiamo missioni per questo. Ammirario, c'è una differenza tra una missione e un compito. Qual è? La differenza tra un compito e una missione è il valore profondo, intrinseco che si dà a quell'incarico. Credo che questo valga la pena di ricordarlo, valga la pena di esaltarlo e valga la pena anche di avere l'unità per chi guida una nazione di non mancare mai di dire grazie, perché se l'Italia è una nazione ricercata, se l'Italia è una nazione credibile, se l'Italia è una nazione forte, che il mondo riconosce soprattutto grazie al vostro sacrificio, alla vostra professionalità, alla vostra umanità, alla vostra testa alta. Quindi il governo, io per prima, ovviamente ringrazio l'amirario, ringrazio il comandante, ringrazio tutto il cui bacio, particolarmente per quello che qui state facendo, nel Mediterraneo, perché nel Mediterraneo, con l'operazione Mediterraneo sicuro, nel Mediterraneo viaggia la stragrande maggioranza dei nostri interessi nazionali. Questo per noi è un territorio cruciale e particolarmente io, in rappresentanza dell'attuale governo italiano, credo che il lavoro che state facendo sia estremamente strategico, perché noi come avete visto stiamo tornando a proiettare prioritariamente l'Italia nel Mediterraneo per i suoi interessi strategici. Ma se non ci fosse il vostro lavoro di battugliamento, di lotta ai traffici illegali, di difesa, monitoraggio delle infrastrutture strategiche, quindi un lavoro a 360 gradi fondamentale, noi non avremmo le precondizioni per fare il lavoro di prima parte. Quindi il grosso del lavoro è per voi e noi alla fine cerchiamo, diciamo, di mettere quello che mi manca è di fare la nostra parte. Allora grazie al nome della vostra patria, della patria che rappresentate e che tanto amate, grazie da parte di tutti gli italiani, a voi, alle vostre famiglie, alle persone che vogliono bene e che con voi devono sacrificare qualcosa e devono rinunciare a qualcosa, a qualcosa che inevitabilmente per voi, per me e per tanti di noi è molto, molto grande. Grazie, buon lavoro.